Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Ragazzi in questo video vi spiegherò come creare Giorgio Best su FIFA 21 Iniziamo Nome Giorgio, cognome Best Andiamo direttamente su nome, sullo diviso e scriviamo Best Numero di maglia 7 Nazionalità Regione, Irlanda del Nord Squadra Manchester United Anno di nascita è un misso nel 1970 Semplicemente perché è nata più vecchia su FIFA Anche se Giorgio Best è molto più vecchio Mese di nascita a maggio, data di nascita a 22 Andiamo su fisico e alto 1,75 m e pesa 65 kg Andiamo sul profilo tecnico Ruolo centrocampista, posizione centro, piede destro Gli attributi invece dovete vedere voi come ogni creazione E li potete mettere anche al massimo Andiamo su testa, avvolto come sempre e non mettete niente E andiamo su tono e carnagione Andiamo su questa carnagione e scegliamo Questa carnagione qui Ora andiamo su sopracciglia Scegliamo le seconde sopracciglia della prima figlia E andiamo su trasforma La L è qui e la R è qui Colore marrone Facciamo conferma e poi indietro Ora andiamo su occhi Scegliamo I terzi occhi Della seconda fila Però contando Da distra verso sinistra Questi qui E andiamo su trasforma Colore celeste e scuro Mentre la L è qui e la R è qui Facciamo conferma e poi indietro Ora andiamo sul naso Scegliamo il secondo naso della prima fila E andiamo su trasforma La L è qui e la R è qui Facciamo conferma e poi indietro Ora andiamo su bocca Scegliamo la seconda bocca della prima figlia E andiamo su trasforma La L è qui e la R è qui Molto molto semplice Facciamo conferma e poi indietro Ora raga Andiamo su guance e mascella Scegliamo l'ultima guance e mascella Della seconda fila E andiamoci trasforma La L è qui e la R è qui Mentre a pienezza Dovete andare verso distra Ma non di troppo diciamo La L è qui e la R è qui Facciamo conferma e poi indietro Ora andiamo su momento Scegliamo il primo momento della seconda fila E andiamo su trasforma La L è qui e la R è qui Facciamo conferma e poi indietro Ora andiamo su orecchia Scegliamo le quattro orecchie della prima fila E andiamo su trasforma Sempre qui a dimensioni Dovete andare verso distra Ma non di troppo È la stessa cosa Mentre la L è qui e la R Facciamo conferma e poi indietro Ora raga Andiamo su capelli Allora andiamo su capelli lunghi E scegliamo questi qui Poi andiamo su capelli medi E potete scegliere Questi qui E questi qui Poi invece capelli corti Potete scegliere Questi qui Quelli che volete Decidete voi Io metto questi qui Poi a divisa Secondo me è molto meglio Mettere divisa dentro Perché a tempi di best Di George best Si giocava ancora Con la divisa dentro Poi a maniche Corte Lunghi Megatermica Lupiccio Dovete vedere voi La stessa cosa Scarpini Ce ne sono un sacco Poi guanti Col palso sinistro Polso destro Dovete vedere voi E la stessa cosa Adonimazione Sultanze Stile pallina attiva Stile punizione Stile calcio di rigore Stile corsa Bene ragazzi Il video di oggi termina qui E vi do l'appuntamento Di un prossimo video Grazie a tutti